Un caro e carissimo saluto a tutti quanti, oggi ragazzi parliamo di questo KB503424 e andiamo a vedere quale che sono le novità di questa versione Diciamo che sulla base di tutto questo poi andremo a leggere le varie cose che sono state un po' appunto segnalate da Microsoft nella diciamo così sezione macro di questo tipo di aggiornamento ma insomma pare che ci siano delle problematiche sull'uso di Copilot se diciamo l'uso di Copilot sinceramente è solo ed esclusivamente nel multi monitor dove praticamente si spostano delle icone, insomma si fanno delle cose un po' a caso se tra l'altro aperto e chiuso parentesi vi interessasse anche approfondire la parte di Copilot se cercate Copilot su questo canale trovate vari video così come il fatto che diciamo che Copilot è stato diciamo così non nascosto ma parzialmente disattivato anche perché insomma ha disattivato sì e no sulle versioni di Windows della nostra diciamo così dei nostri lead di perché la comunità europea è abbastanza contraria con questa cosa diciamo così imposta dall'alto ma naturalmente Microsoft non può eliminare un elemento del sistema operativo quindi l'ha diciamo così disattivata e nel caso vi interessasse io ve lo spiego anche come si fa a riattivarlo ma bando alle ciance andiamo a vedere quali sono le novità perché questo aggiornamento, cito testualmente, risolve un problema che interessa una chiamata Bluetooth interrompe il routing dell'audio attraverso il PC quando si risponde alla chiamata sul PC devo dire che questa cosa mi è capitata mi capita perché più che altro io lo utilizzo anche con il Bluetooth e questa cosa qua pare che faccia sbarellare un po' il tutto e non è l'unico tra l'altro problema che appunto va ad interessare questo tipo di aggiornamento perché c'è questo tipo di problematica perché anche altri auricolari Bluetooth a basso consumo insomma hanno un pochino di errori e di problematiche che si trascinano un pochino e qua insomma pare che sia stato risolto tutto la raccolta di Esplora File cioè nel senso nel momento in cui voi mettete le cartelle in Esplora File e appunto le racchiudete, le descrivete eccetera eccetera pare che ci sia un errore che praticamente ovviamente non si parla del 100% ad alcuni utenti adatto a questo tipo di problema insomma e alcune descrizioni dal comando nel momento in cui voi avete completato questo tipo di operazione manda a monte tutto però vabbè insomma niente ovviamente non stiamo parlando di cose mega galattiche però qua ci sono e noi qua le riportiamo qua dice questo aggiornamento risolve un problema che causa l'esito negativo del processo di risoluzione dei problemi ma questo vale solo per l'app richiesta supporto ora apro e chiudo una parentesi questa cosa qui non è proprio cioè nel senso loro dicono che c'è un problema di esito negativo diciamo che l'app richiesta supporto non funziona praticamente mai se non per aprire una segnalazione tipo feedback ma in realtà non è che funzioni mai benissimo e altro apro e chiudo parentesi in futuro la risoluzione dei problemi sarà legata all'intelligenza artificiale di Copilot e quindi farà un'analisi di tutte quelle che sono le problematiche di Windows e darà una soluzione o probabilmente ci suggerirà in che modo poter operare da questo punto di vista questo naturalmente so che state trattenendo le risate oppure state già ridendo ampiamente però questo ci dice Microsoft e io ve lo riporto cioè più che altro anche del futuro ci sia questa logica di EA che fa da autoriparazione del sistema operativo che magari invece ripeto ironia a parte e invece funziona molto bene e saremo i primissimi a gioire di questa cosa questo aggiornamento risolve un problema che causa il blocco del dispositivo è intermittente e si verifica dopo l'installazione di un'app di supporto per la stampa non è ancora terminata tutto il casino della stampa sapete che c'è stato anche il problema dell'HP Smart che installava quest'app a caso prendeva il controllo diventandola predefinita anche dove non c'erano stampanti HP insomma c'era un po' di casino da questo punto di vista e addirittura portava anche al blocco quindi cioè vabbè e il resto no era la barra di ricerca del menu star per alcuni utenti dove insomma non si riusciva non riusciva a funzionare correttamente e poi un altro vabbè le videochiamate più affidabili non si sa bene cosa voglia dire ma ripeto sulla parte videochiamate con Windows 11 pre questa patch che ripeto come vedete l'ho appena installata non l'avevo ancora neanche riavviata ed applicata devo dire ho avuto enormi problemi poi non so se è l'app che uso io oppure Windows stesso che ha aggiunto ai problemi di quest'app qua che già fa cagare però in questo modo devo usare si è aggiunto anche lui oppure insomma è un mix tra il tutto però fatemi sapere se questa cosa possa esservi stata utile eventualmente comunque andate nel vostro Windows Update aggiornate il tutto io come sempre vi voglio bene continuate a seguire mettete un bel segue al canale perché è sempre una cosa molto utile alla prossima e ciao